un saluto a tutti prima di parlare di milan credo che sia doveroso fare una riflessione su quello che sta succedendo in ucraina con l'invasione dell'esercito russo in ucraina e l'inizio di una guerra che speriamo possa finire prima possibile perché la guerra è una delle cose più terribili che ci sono al mondo veniamo da un momento difficile momento di pandemia dare inizio ad una guerra che potrebbe poi coinvolgere speriamo di no altre nazionalità è un qualcosa di folle quindi siamo vicini alle popolazioni che in questo momento stanno soffrendo alle persone che stanno soffrendo che vivono nel terrore e scusatemi per questa digressione a inizio video ma ci tenevo a farlo perché naturalmente noi siamo qui a parlare di calcio di sport ma c'è gente che sta soffrendo in questo momento difficile davvero molto difficile chiusa parentesi e sperando di avere poi nei prossimi giorni notizie sicuramente più rassicuranti e positive lo spero me lo auguro torniamo a parlare di calcio parliamo di calcio di milan perché domani sera i rossonieri affronteranno l'udinese ci saranno da domani in poi 12 partite per provare ad agguantare il sogno scudetto provare a raggiungere lo scudetto oggi stefano pioli ne ha parlato velatamente durante la conferenza stampa a milanello ho qui alcuni passaggi interessanti della sua conferenza per quanto riguarda il sogno scudetto e lui dice la linea del milan è chiara noi vogliamo migliorare il punteggio dell'anno scorso milana che ha chiuso a 79 punti se poi saremo bravi a migliorarlo di così tanto da vincere lo scudetto sarà qualcosa di eccezionale quindi lo scudetto in casa milana viene visto ancora un qualcosa di eccezionale al di fuori della norma diciamo così l'obiettivo è aumentare i punti dell'anno scorso se la soglia scudetto però un po più bassa rispetto all'anno scorso chissà che il milano possa davvero riuscirci pioli ci va sempre con i piedi di piombo perché giustamente non può poi parlare apertamente di scudetto e pareggiare con la salernitana e tornare indietro e fare una frenata insomma su queste dichiarazioni lui è un allenatore che è sempre molto moderato nel linguaggio e nella dialettica è ovvio che però se giochi al milan se sei il milan e l'anno scorso si è arrivato secondo e quest'anno hai la possibilità di lottare fino all'ultima giornata per lo scudetto è normale che devi provarci questo è questo il mio pensiero pioli che poi ha parlato anche ha risposto anche una domanda sul suo momento al milan del perché sta bene al milan ha detto mi sono sempre sentito protetto e apprezzato protetto dai dirigenti da massara da maldini soprattutto che lo ha voluto lo ha difeso anche nei momenti difficili vi ricordate di quando c'era il fantasma ragnic che alleggiava su su milanello lui dice mi sento a mio agio e questo mi permette di lavorare al meglio poi ha parlato di slatan ibrahimovic vi leggo brevemente la dichiarazione di pioli e poi le commentiamo insieme perché parliamo anche del futuro di slatan sul rinnovo di slatan ibrahimovic lui dice sarebbe una domanda da fare a slatan è molto importante la sua volontà per come lo conosco io per la determinazione che ha per l'ambizione che ha e per la voglia che ha di aiutare la squadra lui continuerebbe a giocare quindi fa capire che la volontà di ibra è quella di proseguire con il milan di rinnovare il contratto con il milan ibra che ha un contratto in scadenza a giugno 30 giugno 2022 tra qualche settimana si affronterà meglio il discorso ibrahimovic per capire anche come arriva atleticamente fisicamente lo svedese a quella data verso primavera vi diciamo subito che sarà un rinnovo se dovesse esserci al ribasso le offerte sul tavolo più o meno orientativamente sono sono già arrivate sarà un'offerta molto più bassa rispetto a quella attuale ricordiamo che ibra ha un contratto con molti bonus ha una base fissa con dei bonus in base alle presenze in base agli obiettivi che può arrivare fino a 7 milioni ma se li prende tutti questi bonus per l'anno prossimo è previsto un contratto con base fissa ancora più bassa quindi siamo sui due e mezzo tre milioni fissi e poi vari bonus che verranno ottenuti in base ai risultati individuali e di squadra mi sembra tutto sommato un contratto anche giusto per una leggenda vivente come slatan ibrahimovic dal punto di vista fisico però ibra non è ancora al meglio non ci sarà contro l'udinese probabilmente molto probabilmente salterà anche il derby di coppa italia contro l'inter e infatti è un po' in ritardo sulla tabella di marcia lui doveva tornare ad allenarsi prima in gruppo qualche giorno fa invece ora ad un mese di distanza dal suo infortunio contro la juve è ancora in palestra che si allena e qui stefano pioli fa il punto sui sotto l'aspetto atletico e fisico dice le condizioni stanno migliorando anche se un po' più lentamente di quanto ci aspettassimo ma sta meglio dice stefano pioli il suo percorso è giorno per giorno bisogna capire come risponde il tendine quando comincia a correre tra oggi e domani tornerà a correre sul campo in questi giorni ha fatto lavoro personalizzato e ha corso sulla sabbia quindi non è ancora un ibrahimovic che è uscito a correre sul campo poi dopo che tornerà a correre sul campo bisogna capire come risponde il tendine da questa infiammazione al tendine d'achille e successivamente potrà cominciare ad allenarsi in gruppo quindi serve ancora un po di tempo per slatan ibrahimovic un milan che quindi dovrebbe scendere in campo domani sera alle 18 e 45 a san siro contro l'udinese con la seguente formazione un il solito 4 2 3 1 di stefano pioli cominciamo dalla porta mike megnan si spera che possa già aver voltato pagina dopo la brutta parentesi di salerno dove ha sbagliato inevitabilmente sul primo gol sull'uno a uno sul pareggio della della salernitana difesa con calabria tomori romagnoli e teo hernandez ricordiamo teo hernandez è diffidato devi stare attento per la prossima partita contro il napoli in campionato a centrocampo che si a fianco a tonali perché benasser è squalificato dopo aver preso il giallo a salerno i trequartisti dovrebbero essere messias a destra in ballottaggio con saleme cares c'è ancora questo ballottaggio in atto diamo messias favorito ma domani mattina faremo un'ulteriore verifica di questa cosa brain diaz sarà il trequartista numero 10 le ha ovviamente a sinistra sulla trequarti e la punta sarà olivier che torna di nuovo a san siro lo stadio che gli porta bene ha segnato tutti i suoi gol a san siro e il mia nelle prossime due udinese e inter campionato e coppa italia le giocherà entrambe a san siro quindi l'augurio del minane che possa continuare questa sua tradizione positiva favorevole nello stadio di casa san siro che comunque sarà molto pieno a livello di tifosi di tifoseria perché il minane ha messo dei prezzi accessibili e tra l'altro ci sono anche delle promozioni biglietti a un euro per gli amici rispetto a chi prende il biglietto chi acquista il biglietto quindi sarà un san siro molto pieno pieno di tifosi rossoneri che sosterranno il minane in questo momento bello perché il minane primo in classifica ma anche delicato perché il minane deve svoltare dopo il pareggio contro l'ultima in classifica e affrontare una squadra ostica lo ha detto anche oggi in conferenza stampa stefano pioli le caratteristiche dell'udinese non sono facili da affrontare perché una squadra che si chiude una squadra che poi tende a ripartire ma gioca con tutti gli uomini dietro la linea della palla e soprattutto è una squadra molto fisica quindi il minane deve essere rapido veloce nel giro palla rapido veloce nel pensiero nel capire quale sia la scelta giusta da fare sulla tre quarti per innescare girù ma anche gli inserimenti di messias a destra leao soprattutto l'arma raffa leao a sinistra e magari qualche guizzo di braim visto che il giocatore spagnolo non segna da cinque mesi cinque mesi di assenza dal gol per braim non sono davvero tanti servirebbe un guizzo da parte sua una giocata da parte sua un gol che lo possa sbloccare anche mentalmente milan che quindi dovrebbe scendere in campo con quest'undici vedremo domani mattina magari faremo un video di aggiornamento se ci saranno delle novità se avremo altre news sul sull'undici non ci sarà zlatan ibrahimovic mentre potrebbe essere convocato l'asetic ma è ancora tutto da vedere perché la lista dei convocati verrà diramata solamente quando il milan ufficializzerà l'undici e la distinta praticamente prima della partita contro l'udinese quindi potremo scoprirlo solamente nella giornata di domani ci sentiamo ovviamente la giornata di domani per le ultime su milan udinese sul calciomercato e speriamo di ricevere anche notizie confortanti per quello che sta succedendo tra ucraina e russia